Un presidio pacifico è partecipato che ha bloccato per circa un'ora il cancello d'ingresso per chiedere all'azienda di tornare sui propri passi e trovare altre strade. Così durante una prima assemblea di fabbrica i lavoratori dell'Ailex di Chiaveri hanno preso posizione compatti contro i 22 esuberi annunciati al termine del tavolo di negoziazione con i sindacati. Un confronto che all'annuncio dell'apertura della procedura di licenziamento collettivo si è interrotto repentinamente. Noi come Fiume abbiamo deciso di alzarci e abbandonare la riunione perché non c'erano margini trattative, noi non trattiamo sul numero degli esuberi, noi non vogliamo esuberi perché riteniamo che la situazione sia solamente congiunturale, non sia una situazione strutturale dell'azienda e qui non ci sembra il caso di dover discutere sul numero degli esuberi, per noi non ci sono esuberi. Stessa posizione ribadita dalla CISL anche se non ha da subito abbandonato il tavolo. All'assemblea di fabbrica era presente anche un delegato di Genova, a conferma che quella che si è aperta a Chiaveri è un'avvertenza regionale che interessa un settore, quello dell'automotive, che sta attraversando un momento non facile. La Ailex nello specifico sta patendo un ritardo nella partenza delle commesse, l'aumento dei costi delle materie prime e una concorrenza qualitativa molto serrata con le altre realtà del settore. A fronte di questo la soluzione però non sono gli esuberi, spiegano i sindacati. Noi comunque questi 22 licenziamenti, vista anche la situazione, li rigettiamo totalmente, non siamo assolutamente d'accordo. Adesso parte la prima giornata di lotta e nei prossimi giorni cercheremo di trattare con l'azienda per vedere di risolvere la situazione. Ci sono ancora i contratti di solidità, c'è in ballo ancora un ricorso sulla cassa integrazione che era stata aperta e poi rifiutata dall'Inps, quindi non capiamo perché questa presa di posizione così dura da parte dell'azienda. Noi se si apre una discussione sui contratti di solidarietà siamo ben felici di poterla aprire.